tutto elettrico dalle nostre fat bike alle nostre jeep 4x4 esatto non c'è nulla che ci fermi viaggiamo green in totale sicurezza affrontando anche i percorsi più impegnativi e innevati senza andare in lappogna siamo a Livigno e io oggi ho una guida del tutto speciale tj qua noi caloppiamo sulla neve fresca abbiamo un'amica qui a Livigno che è una grande amante degli animali infatti questi alpaca sono suoi e li stiamo portando a fare una passeggiata anche se in realtà sono loro a dettare il passo ci stanno facendo correre e chi se l'aspettava di arrivare a Livigno e trovare i lama? assurdo prima con i lama e adesso al galoppo continua la nostra avventura sulla neve inforchiamo le ciaspole ed usciamo in escursione lungo i pendii delle montagne che circondano Livigno a a a a Autore dei sovrapposti